Trieste Espresso 2018, siamo allo stand della Balugani SRL, un'azienda che si occupa di depurazione dell'acqua in ambito professional e ci troviamo in compagnia di Nadir Balugani, il responsabile commerciale dell'azienda. Ciao Nadir, benvenuto dinanzi agli schermi di OreccaTV.it Salve a tutti, buongiorno a tutti. Raccontiamo la storia della Balugani in 60 secondi. Quando nasce Balugani? La dita Balugani nasce nell'81, nella provincia di Ferrara. All'inizio trattavamo solamente attrezzature per il mercato Orecca, perciò macchine da caffè, produttore di ghiaccio, settore del lavaggio. Dieci anni fa abbiamo intrapreso questa esperienza, abbiamo cominciato a produrre addolcitori per il trattamento d'acqua ed ora eccoci qui a Trieste Espresso. Trieste Espresso è l'occasione giusta per andare a presentare quelli che sono i vostri filtri che sono alle nostre spalle. Io li ho mostrati in modo davvero molto elementare. Cosa significa B2B 4,5 o 3 o 6.0? Praticamente queste sono delle cartucce che vanno solamente sotto la macchina del caffè, servono esclusivamente per togliere carbonati di calcio e di magnesio dall'acqua. Perciò sono indicate assolutamente solo ed esclusivamente per la macchina del caffè. La cartucce ha direttamente gli attacchi tre ottavi per la macchina del caffè direttamente sulla testata, perciò non ha bisogno di una testata aggiuntiva, perciò costi aggiuntivi per l'installatore o il torrefattore. Ha il bypass per poter regolare la durezza dell'acqua di uscita ed è esclusivamente per la macchina del caffè, come ho detto prima. Da dire, ma questa non è l'unica cosa che presentate qui nell'ambito di Trieste Espresso 2018. Quello della depurazione dell'acqua è un tema importantissimo per il caffè e importantissimo anche per l'ambiente bar, l'ambiente ristorazione. E voi quindi cosa avete? Bene, abbiamo una gamma che va praticamente dall'adolcitore più piccolo, che sarebbe poi la cartuccia, dall'adolcitore automatici e volumetrici che possono servire poi praticamente tutto l'ambito del settore orecca ad arrivare ad alberghi, grosse comunità, alloggi. E sono adolcitori molto grandi che sono quelli che abbiamo alle spalle poi. Ecco, sono quelli che avete visto anche negli ultimi secondi in video. Sono destinati alle grosse comunità, alle lavanderie, ai forni che producono materiale per pasticcerie e così via. Perciò anche industrie di cementifici che hanno bisogno di un'acqua costantemente pura, assolutamente priva di calcare, addirittura diamo dei depuratori a doppia colonna che si chiamano duplex proprio per una certezza di risultato, perché non possono tra una colata e l'altra poter avere del calcare, perciò hanno una certezza di risultato. Nadir, qual è l'indirizzo di posta elettronica che chi è dall'altra parte può andare a digitare per mettersi in contatto con voi e avere maggiori informazioni senza alcun impegno? Parliamo davvero a questo punto di qualunque dei settori citati fino ad ora? Sì, il nostro sito internet è www.baluganisrl.it potete contattarci tranquillamente su info-baluganisrl.it Sul nostro sito c'è tutto, tutto ciò che trattiamo dalla piccola cartuccia ad arrivare ai più grandi addolcitori. Beh, sei stato davvero estremamente compresso anche nei tempi televisivi così come mi ero raccomandato. Ti ringrazio e ti invito a salutare tutti loro. Salve, grazie a tutti. Mentre io continuo con telecamera e microfono in giro per Trieste Espresso 2018 per cercare di documentare tutto quello che le aziende stanno presentando in questa biennale di Trieste. Non andate lì perché continuiamo, abbiamo ancora tantissimo da mostrarvi. Ciao Nadir! Ciao, grazie a tutti.